Celebra la misteriosità e la gioia in una bellissima danza accompagnata dai cibali. Benvenuta Maria Fomina, una delle pioniere del tribal style in Ucraina, danzatrice professionista e insegnante che si esibisce e insegna a livello internazionale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!